Un uomo di nazionalità lituana è morto a Corigliano Rossano dopo essere stato investito per cause ancora in corso di accertamento da un'auto in transito. Il fatto è avvenuto lungo la via provinciale, nell'area urbana di Corigliano, e dopo l'impatto il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso. Immediato è stato l'intervento di un'ambulanza del servizio di emergenza 118 che ha trasferito la vittima nell'ospedale di Rossano, dove l'uomo è deceduto poco dopo in seguito alla gravità delle ferite riportate. Sul posto, per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.